Continua con successo la campagna di sensibilizzazione e ricicla estate 2010 che sostiene la raccolta differenziata sulle spiagge. L'iniziativa che si rinnova per il quinto anno vede impegnati in tandem la provincia di Salerno con legambiente Campania e il CONAI, il consorzio per il recupero degli imballaggi. Il progetto, cofinanziato dall'assessorato provinciale all'ambiente, coinvolge le località turistiche della costiera cilentana e amalfitana. Presso gli stabilimenti balneari e sui lungomare appositi bidoncini consentono a cittadini e turisti di depositare in modo differenziato i rifiuti permettendo così ai consorsi che garantiscono il riciclo di trasformare quello che prima era solo un rifiuto in una risorsa preziosa. Soddisfatto dei primi bilanci della campagna di sensibilizzazione si è detto Giovanni Romano, già assessore provinciale all'ambiente. Con la partecipazione e il cofinanziamento al progetto di legambiente ricicla estate 2010, ha detto Romano, ci proponiamo di sensibilizzare anche in vacanza la popolazione sulla raccolta differenziata ed educare i più giovani al rispetto dell'ambiente. Il progetto prevede inoltre la campagna all'ultima spiaggia. Cittadini e turisti possono segnalare in prima persona le illegalità che mettono a rischio il patrocinio costiero, inviando un'e-mail a riciclestate.campania.it o chiamando il numero verde dei carabinieri tutel'ambiente 800 253 608.